La Piana dell'Entella è un bene da tutelare, questo deve essere il punto di partenza di tutte le valutazioni e progetti che riguardano il torrente e il suo ecosistema. Il riferimento è dunque al progetto della Diga per Figli che procede nel suo iter nonostante in molti pareri contrari e comprometterebbe un patrimonio paesaggistico e ambientale. Parliamo infatti della seconda Piana alluvionale più estesa in Liguria, solo dopo quella di Albenga. Quando usiamo il termine paesaggio dell'Entella stiamo già utilizzando una parola di valenza storica. Il paesaggio dell'Entella è una lunga stratificazione della presenza umana specializzata di ortolani e contadini che nell'arco di diversi secoli, qualche migliaio di anni, hanno dato vita a questo straordinario fenomeno ambientale, microambientale che noi abbiamo sul nostro territorio. La proposta alternativa al progetto dell'Argine è quella dello scolmatore che secondo il professore di geologia strutturale Franco Helter può essere una buona soluzione, ma va scelto con molta attenzione il punto in cui questo canale sfocerà. Indipendentemente dall'opera che verrà realizzata, uno dei passaggi fondamentali per mitigare il rischio idrogeologico è quello del dragaggio della foce. Prima di parlare di queste opere è necessario assolutamente liberare la foce da 1.150.000 metri cubi di sedimento che si estendono a un chilometro dalla foce verso il largo per uno spessore di 17 metri e una larghezza dai 50 ai 60 metri. Questo sistema, questo cuneo fa da tappo, scusatemi il termine non tecnico e quindi non permette assolutamente il defluire dell'acqua. Il fiume Entella con il suo corso trasporta ogni anno 50.000 metri cubi di materiale solido. Dunque il dragaggio non è un dragaggio come tutti possono pensare fatto da terra, deve essere svolto con delle idrovare partendo dal largo e andando verso la foce. Il materiale rimosso potrebbe poi essere usato per il ripascimento delle spiagge naturalmente solo dopo analisi relative alla presenza o meno di agenti inquinanti. La rimozione poi del cosiddetto tappo alla foce permetterebbe di aumentare l'angolo di uscita del fiume, quindi dell'erosione e quindi di abbassare il greto, diminuendo la possibilità di esondazione.